Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta pere e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, farina di mandorle, uova, lievito per dolci vanigliato, zucchero, burro, sale, pere tagliate a fette e tagliate a pezzetti, panna fresca per dolci, pasta di limone o scorza di limone, zucchero di canna e mandorle a lamelle. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, il burro, le uova e la panna. Ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Aggiungere la farina di tipo 00, la farina di mandorle, il lievito, la pasta di limone, il sale e ad azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Aggiungere le pere ed amalgamare con la spatola. Il composto è pronto, trasferire in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Mettere su tutta la superficie le fettine di pere. Aggiungere le mandorle a lamelle. Spolverizzare con lo zucchero di canna. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Torta pere e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo.